Ciao ragazzi siamo qui allo stand LG con LG Optimus L5 prodotto diciamo di fasce medie tra quelli della gamma L-Style si tratta di un device molto simile all'L7 con un processore Cortex A5 da 800 MHz ha uno schermo da 4 pollici però con risoluzione HVGA quindi 480x620 pixel manca la camera anteriore invece c'è quella posteriore con autofocus e flash led e capacità di catturare foto con effetto HDR inoltre abbiamo ovviamente Android 4.0 e screen sandwich quindi basterà toccare lo schermo per qualche attimo per personalizzare la nostra interfaccia vedete queste schermate molto belle e simpatiche possiamo ovviamente inserire vari widget per i curiosi che vogliono sapere diciamo la versione esatta è la 4.0.3 il chipset è il 7225 di Qualcomm Kernel 3.08 ovviamente è un single core abbiamo ovviamente uno spessore molto piccolo diciamo che è 9,68 mm comunque un pochino più spesso rispetto ad L7 abbiamo anche il chip NFC quindi un prodotto abilitato diciamo per pagamenti con la tecnologia NFC per il resto diciamo un device che risponde bene purtroppo qui non abbiamo una connessione quindi non possiamo mostrare le capacità del Cortex A5 in ambito navigazione web quindi rendering di pagina web comunque sembra piuttosto rapido e ben ottimizzato come interfaccia e come velocità di sistema e con questo diciamo è tutto prima andiamo al prossimo video un saluto da Matteo di Angro e di Quid